Quali di questi sistemi funzionano? Praticamente nessuno, cioè almeno nessuno funzionava, se non qualche vinificatore speciale che era l'unico forse che riusciva a lavorare su grandi volumi e sebratori stretti e alti, con delle problematiche. Perché? Perché l'irrorazione non può funzionare, perché anche se bagnante perfettamente il cappello, si creano necessariamente dei canali preferenziali, per cui estraete soltanto dai canali preferenziali. Ovviamente potrei fare un delestage o altre soluzioni in pressione, però alcune funzionano ma sono complicate e costose, alcune non funzionano. Nel tempo si sono inventate cose strampalate che poi sono durate un anno. Ma facciamo un esempio, vediamo quant'è l'altezza del cappello di vinaccia su serbatoi non da 3.000 ma da 1.000. Questi sono tutti esempi reali di vinificatori che abbiamo realizzato. Per esempio, un serbatoio da 1.000, da diametro 3,5 metri, di altezza di 10 metri, molto comune in alcune regioni, ha un cappello di 2,30 metri. Ma non dipende dal volume, quindi 3.000 aveva 2,5 metri e 3 metri di cappello, 1.000, 2,30 metri, 500 metri, 80 metri. Attenzione, sono tutti misure reali, ma da che cosa dipende? Scusa, faccio un passo indietro. Non dipende tanto dal volume, ma dal rapporto tra il diametro e l'altezza del serbatoio. Per cui, anche un serbatoio di 100 ettolitri, ma se io lo realizzo di 10 metri, avrò 2,5 metri di cappello. Ovviamente avrà un diametro di 1,80 metri, è un serbatoio molto strano, però è così. Cos'è che è cambiato rispetto a prima sulla iniezione del gas sotto il cappello? È cambiato il concetto. Cioè prima l'iniezione del gas serviva a creare delle bolle che andassero proprio a rompere il cappello. Quindi meccanicamente andavano proprio a comportarsi come una specie di barra che andava a rompere, a disgregare il cappello. Ovviamente non riuscendoci e creando delle problematiche. Il concetto nuovo è che adesso non si fanno delle bolle, ma si fanno dei getti d'aria opportunamente modulati che producono delle onde, delle onde disgreganti. Queste onde disgreganti che cosa vanno a fare? Sono queste onde di liquido, non il gas, che va ad affondare e disgregare completamente il cappello. Stiamo parlando di serbatoi che altrimenti non lavorerebbero. I risultati sono stati eccezionali, sia a livello pratico, perché ci sono vari vantaggi, ovviamente. I vantaggi quali sono? Intanto l'estrazione su tutto l'intero cappello, la riduzione dei tempi di vinificazione, la semplicità di svinatura, perché un cappello completamente disgregato è molto diverso da svinare rispetto a un cappello compatto e a volte secco in alcuni punti. Questa innovazione che permette di installare gli ugelli letteralmente nasce comunque in un serbatoio completamente libero all'interno e vuoto, per cui facilmente pulibile con tutti i vantaggi di questo. Ora, non posso dilungarmi molto, però sono pronto a rispondere alle vostre domande in seguito. Comunque vi abbiamo messo un foglietto su cui potete prenotare per degli incontri che vorremmo creare. Però faccio notare che dal 2014, attenzione, fine 2014, sono state installate nel mondo 587 installazioni. In Cile, Italia, Spagna, Argentina, cioè nei paesi più importanti dell'enologia. Questo lo faccio notare perché è importante, perché inizialmente le cantine facevano qualche serbatoio di prova e poi lo estendono a tutti i serbatoi. Questo sistema è stato premiato sia a Bordeaux, Vinitec 2016, e sia nella recente fiera di Bulgaria, primo premio di innovazione. Primo argomento. Parliamo adesso del Nectar. Il Nectar è un vinificatore che è stato realizzato da diversi anni, non è nuovo, e brevettato, inventato da un signore, Walter Corrada, che non c'è più, purtroppo, e il brevetto è stato rilevato da Parsac insieme ad altre due aziende, 3CF e l'Eno Tecnica. Questo vinificatore ha delle particolarità che sono sempre attuali e praticamente quale sono? Allora, se noi consideriamo le tipologie di vinificatori che normalmente ci sono in commercio, operano con l'immersione del cappello, con l'irrorazione, gas follatore del cappello, delle stagio, immersione e aerofollatore in pressione. Questi sono, diciamo, i metodi in cui funzionano i vari vinificatori. Ecco, il Nectar, il Nectar, com'è fatto? E' realizzato, diciamo, in questa maniera. Sembra un osservatorio unico, ma in realtà sono due contenitori e quello superiore è un semi contenitore, un semi serbatoio. Perché? Perché permette di rendere accessibile sia in maniera assolutamente tradizionale, sia il serbatoio sottostante, che è il principale, sia il serbatoio superiore, che ha un decimo del volume rispetto a quello inferiore. Un'altra novità, diciamo, era la novità quando è stata brevettata, è la griglia autopulente. E la novità vera è, diciamo, i miglioramenti tecnologici che sono stati fatti grazie al controllo, ai controlli Parsec applicati a questo sistema. Il quadro di controllo del Nectar era già Parsec quando ancora l'inventore era, diciamo, era attivo, era vivo. Allora, ovviamente noi abbiamo messo, siccome noi tutti gli anni facciamo due, tre, quattro miglioramenti e innovazioni, li andiamo ad applicare a tutti i sistemi. Ma vediamo come funziona rapidamente. Allora, il riempimento del serbatoio è ovviamente normale e ovviamente la stratificazione porta a creare il cappello. Ma se io agisco con della pressione esogena o grazie alla pressione endogena, praticamente faccio sì di operare un delestage senza pompe, attenzione, che mi porta il liquido nel serbatoio superiore. A questo punto avviene una cosa molto particolare e unica. L'alluvionaggio isobarico. Cioè, cosa succede? Viene chiusa la valvola sull'esterno, aperto il bypass e i due contenitori vanno alla stessa pressione. A questo punto, quindi, è una situazione isobara. A questo punto apro la valvola tra il contenitore superiore e quello inferiore e il liquido va a ricoprire tutto il cappello di vinacce compresso, diciamo, dalla pressione. Sto lavorando ancora in pressione. Solo in questo momento io vado avanti e faccio l'area follatura. Cioè, praticamente, apro lo scarico e tutte le bollicine di CO2 che erano compresse sono all'interno, tipo bottiglie di champagne, tanto per fare un esempio molto colorito, vanno a rimescolare completamente tutte le bucce all'interno del liquido. Questa cosa ha degli enormi vantaggi. Ora, purtroppo, vado, devo andare veloce e faccio un cenno alla griglia, diciamo, di scarico autopulente fondamentale per poter non solo lavorare il sistema ma poter usinare praticamente il 70% del prodotto soltanto in liquido e lasciare solo il 30% di vinaccia. Quindi, è un vinificatore che mi permette di lavorare in ambienti inerte, quindi, sposando le esigenze che ci sono in questo momento e lo faceva già da dieci anni, di lavorare in saturazione di CO2 e preservare gli aromi e trattare in maniera assolutamente delicata tutta la massa di bucce. Ovviamente, grazie ai controlli aggiuntivi PARSIC siamo riusciti ad ottimizzare l'ossigenazione a rendere flessibile il sistema sia ancora più flessibile rispetto a prima l'uso nei bianchi e nei rossi e avere numerosi protocolli di estrazione avere macerazione precoce e brevi ed è ovviamente senza parlare della possibilità di controllare il NECATR tramite la cinetica fermentativa cosa che stravolge ha stravolto già il mercato non so se state seguendo le evoluzioni del nostro sistema ADCF cioè valutazione della cinetica fermentativa come sta cambiando per chi lo usa diciamo il concetto di come lavorare nella vinificazione scusate, sto andando indietro e non abbiamo tempo forse per fare altri esempi altri esempi allora faccio soltanto degli accenni di cosa vuol dire controllare un processo in maniera interattiva un esempio banale allora qualsiasi soluzione voi utilizzate l'oratore il mixing potrebbe essere la soluzione per la macerazione può essere Parsec ma può essere anche un altro costruttore qualsiasi la possibilità di controllare la temperatura non per aprire la valvola per raffreddare o riscaldare ma per gestire la velocità di fermentazione il poter gestire tutto quello che ne consegue con il consumo degli zuccheri il dosaggio dei nutrienti a cui diciamo parlerà il nostro partner abbiamo sviluppato un prodotto bionica che è venduto dall'HTS e tecnologia proprio utilizzando del lievito liquido e tutto questo siccome il sistema Parsec ha la caratteristica di avere per ogni funzione un microprocessore indipendente quindi riuscire a elaborare in maniera autonoma e in maniera in tempo reale quello che sta succedendo e interfacciarsi al sistema generale che poi il sistema generale va ad agire per controllare il tutto facciamo degli esempi per esempio questa è una cinetica fermentativa in cui c'è un controllo legato alla cinetica fermentativa sia dell'ossigenazione che praticamente del dosaggio dei nutrienti o questo è un esempio che vi volevo portare spesso le persone sono portate a credere di vinificare non so a una certa temperatura se guardate questi grafici se vedete il praticamente la non so se si vede bene ma insomma la linea più più bassa e la linea più alta sono due punti del serbatoio allora normalmente l'enologo è convinto di lavorare in questa linea dritta sono i set point l'enologo è convinto di lavorare non so a 25 gradi in realtà quello che quello che sta succedendo del serbatoio è tutt'altro perché la stratificazione anche durante la fermentazione è enorme per cui la temperatura media di fermentazione è completamente un'altra ovviamente cosa succede cosa comporta questa cosa comporta a non avere un controllo del processo sto parlando solo della temperatura ovviamente la stratificazione della temperatura è un grosso problema questo è un altro esempio su tutti i grafici reali di cantine di fermentazioni vere e proprie questo il set point diciamo quello impostato dall'enologo la linea verde inferiore è quella che l'enologo vede normalmente e in realtà la temperatura diciamo ma non dico in questo caso è un serbatoio piccolino siamo a un metro e mezzo dalla sonda inferiore ovviamente opportunamente posizionata è completamente un'altra ovviamente questo cosa comporta comporta la possibilità di interagire per esempio qui c'è l'interazione tra l'ossigenazione i rimontaggi e la temperatura per cui questa cosa da un problema diventa un vantaggio questo è un altro esempio un esempio di una di una cinetica fermentativa rilevata un serbatoio da 50 ettolitri e questo grafico che vedete qui in basso è la temperatura in cui si vede come le linee verticali sono i rimontaggi si vede come i rimontaggi sono azionati in maniera diciamo molto diversa in base al momento della fermentazione questo è quello che tutti tanti enologi sognano ecco questo viene fatto automaticamente grazie all'esigenza che viene impostata io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola alla dottoressa Biondi grazie a tutti